buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di utilizzazioni assegnazioni provvisorie 2023 2024 perché c'è stato l'accordo tra amministrazione e sindacati per partire dare il via alla presentazione delle domande che probabilmente potrebbero partire già da giovedì 15 giugno fino al 4 luglio ma i sindacati hanno chiesto di modificare queste date e di far passare ancora qualche giorno prima di dare i termini per la presentazione comunque sia le domande si andranno a presentare nelle ultime due settimane di giugno e la prima settimana di luglio andiamo alle domande sono una docente entrata in ruolo nell'anno 2022 2023 su sostegno da gps prima fascia e ancora ho un contratto a tempo determinato e sto per finire l'anno di prova potrò presentare istanza di assegnazione provvisoria verso la provincia in cui vivono i miei genitori la risposta è affermativa l'accordo raggiunto tra l'amministrazione e i sindacati darà l'opportunità anche a chi è entrato il ruolo sul sostegno da gps prima fascia nel 2022 2023 di poter presentare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la provincia in cui risiedono appunto i genitori della docente nel caso specifico per l'assegnazione provvisoria 2023 2024 la domanda dovrà essere compilata in modalità cartacea inviata per posta elettronica certificata all'ufficio scolastico della provincia in cui risiedono i genitori con tutti gli allegati di riferimento e l'ufficio andrà a convalidare non appena ci sarà il riscontro dell'esito positivo del superamento dell'anno di prova del docente domanda numero due i docenti vincolati per aver avuto un trasferimento interprovinciale nella provincia di residenza x per l'anno scolastico 2023 2024 però potranno presentare istanza di assegnazione provvisoria all'interno della provincia x per il ricongiungimento al coniuge verso il comune dove risiede anche in questo caso diamo una risposta affermativa la domanda dovrà essere compilata inoltrata dalla piattaforma delle istanze online del sito dell'istruzione e del merito si raccomanda di inserire tra le prime preferenze le scuole del comune di residenza del coniuge il codice del comune di residenza del coniuge e solo dopo poter può si possono indicare altri comuni altri comuni codici di altri comuni differenti da quello di residenza del coniuge perché se così non fosse verrebbero annullate le preferenze successive a quelle che si riferiscono alle scuole di residenza del coniuge domanda numero 3 è possibile presentare più domande di assegnazione provvisoria per più ordini di scuola o per altre classi di concorso dello stesso ordine di scuola in cui si è titolari la risposta è affermativa solo se si è superato l'anno di prova e se si è in possesso del titolo di abilitazione per altri insegnamenti chiaramente bisognerà indicare in domanda le classi di concorso per cui si vuole richiedere l'assegnazione provvisoria e dichiarare in allegato il titolo di abilitazione per quegli insegnamenti per gli insegnamenti delle classi di concorso richieste per l'assegnazione provvisoria in altro ordine di scuola per esempio un docente che è titolare la scuola secondaria secondo grado ma abilitazione la scuola secondaria di primo grado bisognerà presentare istanza separata speriamo che le risposte a queste domande siano utili ai nostri telespettatori vi invitiamo a seguirci ancora su questi temi su altri sul nostro sito www.technicalascuola.it e sui nostri canali social per le dirette che faremo su questo argomento e su altri argomenti canali social come youtube e facebook appunto di tecnica della scuola arrivederci a tutti alla prossima volta grazie grazie